Allora Benvenuti in un nuovo video Sì, sono tornata con i Get Ready Tra l'altro con Get Ready un po' Total look, nel senso che Come vi dirò a breve, non mi truccavo da Veramente tanto tempo. Prima di lasciarvi la parte Interessante di questo video, devo dire Due cose, prima che me le dimentichi La prima è che questa è la prima volta che registravo In questa postazione, non ce l'avevo Mai provato, letteralmente mai, quindi non so Luce, non so Background, non so il microfono Se qui si sentirà bene, perché siete Quaggiù e quindi abbiate Pietà, lasciatemi Anzi feedback, datemi consigli Nel caso appunto in cui Voleste cambiare qualcosa, così Mi saranno utili per le prossime volte La seconda cosa che devo dirvi invece la conoscerete A memoria, cioè il fatto che la lista completa Dei prodotti che ho utilizzato per truccarmi La troverete nell'info box e non la sentirete Bladerare da me, a parte un prodotto che era una novità Perché se no mi perdevo in chiacchiere E praticamente non avrei risposto A nessuna domanda. Io spero che il video Vi rilassi, che vi tenga a compagnia E vi intrattenga. Noi ci vediamo alla fine Prima di iniziare devo dirvi per onestà Intellettuale tra di noi che io non mi trucco Dall'aprile scorso Un po' perché con l'estate il trucco Non lo reggo, mi sento una maschera Di cera, un po' perché onestamente Non ho più sentito il bisogno, non ho avuto Modo e tempo di farlo e sono stata bene così Però è comunque una cosa che mi piace e che mi diverte Sapevo che comunque i getter e di vi mancavano E mancava anche a me registrarli, quindi oggi Mi sono presa un'oretta, adesso mi metto qui E mi trucco, tra l'altro oggi è una giornata Anche speciale per me, quindi sicuramente Mi sarei un po' sistemata carina E quindi insomma ho pensato prendiamo come sempre Due piccioni con una fava ed eccomi qui Appunto a registrare questo getter e di Prima di iniziare a truccarmi però come sempre vado a leggere Alcune delle vostre domande che metterò da qualche parte Nello schermo E ne avete fatte tantissime, molto interessanti Ho cercato di prendere quelle che Rappresentavano un po' il pensiero comune In modo tale da non Cioè da selezionarlo ognuna per tipologia Dunque, la prima è questa Ce n'erano tantissime sulla casa Però ho notato che questa era una delle più ricorrenti Ovvero Sei soddisfatta di com'è ora la casa? E come te la immaginavi? Devo dirvi che Non sono ancora soddisfatta al 100% Ma semplicemente perché non è finita E finché non sarà soffinita Io avrò sempre il pin nella testa Che ci sono delle cose non perfette E essendo io una perfezionista Aspettate che si stiamo i bracciali Se no vi da fastidio il suono Essendo io una persona un po' Più che perfezionista Un po' maniaca Della perfezione Dell'ordine eccetera Per me è frustrante Che ancora non sia completamente finita Però c'è anche da dire Che questo mi ha insegnato Di avere pazienza E quindi Diciamo ci sono lati negativi E positivi In questa stessa situazione Mi turba il fatto che Lo studio non sia ancora Non finito Nemmeno iniziato Però è anche vero che mi sto concentrando Piano piano su tutti I dettagli Perché preferisco finire Alcune stanze completamente Piuttosto che Averne iniziate Mille E finita nessuna Quindi Ho finito come saprete Da poco Ma da pochissimo La camera da letto Ecco per quindi Perché siamo qui Dovrei finire anche la sala Che a questo punto È praticamente finita Cioè perché ho anche trovato Una vetrinetta Poi dovrei acquistare Nei prossimi Credo giorni Massimo Un paio di settimane A parte diciamo I lampadari Che quelli continuano A essere un problema Una persecuzione Cioè non ce l'ho Da nessuna parte Né in camera da letto Né in bagno Né in cucina Né in sala Né in studio Né da nessuna parte Quindi a parte lampadari Onestamente non so Quando risolverò Questa situazione Perché vi giuro Che non ci sono lampadari Non ho trovato nessun lampadario Che mi convincesse Quindi non è solo colpa mia Però a parte quello Diciamo che possiamo dire Che tutte le altre stanze Sono quasi finite Cioè bagno e camera da letto Manca soltanto il lampadario In sala mancano un paio di cosine Però ci siamo praticamente E quindi l'unica cosa Che manca è lo studio Quindi quando avrò finito lo studio Vi saprò dire effettivamente Se sono soddisfatta o no Però diciamo che Se devo parlarvi solo Cioè facciamo finta per un secondo Quello studio non ci sia Che non sia un mio cruccio mentale Da quando mi alzo A quando vado a dormire Scherzo Devo dirvi che sono Non solo soddisfatta Ma sono molto colpita A me stessa Nel senso che Io ho un problema enorme Che mi porto dietro Un po' in tutto Cioè sia nel trucco Che nell'abbigliamento Che negli accessori Che ovviamente anche nella casa E cioè che A me non piace un solo stile A me ne piacciono tanti Probabilmente perché Non posso accettare Di dover fare delle scelte E come dire Poter avere una sola cosa A me piacciono tanto i colori Mi piacciono Cioè mi piace l'argento E mi piace l'oro Mi piace un mood Nero un po' cupo Ma anche il bianco e il rosa Quindi insomma Avevo un po' Il terrore di fare Un Un mappazzone Avevo sinceramente Il terrore appunto Di fare un po' Un mix di cose No sense Era veramente una paura Che quando ho iniziato A guardare insomma I mobili Non riuscivo veramente A trovare una quadra Cioè guardavo Non lo so Quelli bianchi E legno Dicevo fantastici Li voglio Poi andavo a guardare Non lo so I neri opachi Volevo anche quelli Insomma Per molto tempo Sono stata in ansia Di combinare un guaio E alla fine Di fare delle cose Che non avessero Né capo né coda Invece devo dirvi Che secondo me Sono assolutamente Stata in grado Di evitare questa Questa situazione Perché Credo che nel complesso Sia molto Coerente Poi ovviamente Non è perfetta Perché come vi dico sempre E lo dico Non tanto per scusarmi Ma perché magari Uno La percezione che ha di youtube È che chi è da questa parte È un po' tuttologo Invece non è così Io non sono un interior designer Non è che siccome Comunque lavoro In ambito comunicazione Estetica O faccio grafica Allora saprei Arredare una casa Insomma Ogni professione Ha le sue regole E sicuramente la mia Non segue quelle dell'arredamento Per cui Cioè il rischio Di fare un po' Un macello Era molto alto E invece non penso Di averlo fatto Appunto Come dicevo qualche secondo fa Sicuramente ci sono delle cose Che potevano E possono migliorare Ad essere più perfette Assolutamente sì Però nel complesso Vi ripeto Pensavo Che avrei combinato Un guaio Quindi sono molto Molto Colpita da me Tanto che anche le mie amiche Ogni volta che vengono Mi dicono Marti ma sei stata veramente brava Io tipo Cioè Non pensavo Nel senso che Ci sono stati dei momenti In cui tutti Intorno a me Hanno temuto Che le mie scelte Potessero Mi sono persa Al correttore No Potessero creare Un po' di danni Invece alla fine Devo dire Sono stata bravina E Molto soddisfatta Tornando indietro Credo che Più o meno Rifarei tutte le scelte Non penso Ci sia ancora qualcosa Di cui mi sono pentita Ci sarà Perché È normale Secondo me È fisiologico Che in una prima esperienza Come questa Poi ci sia qualcosa Di cui uno si pente Però per adesso Non è accaduto Quindi E comunque Apro una parentesi Questo nuovo correttore Di Nabla Che si apre con Cioè che esce Insomma Girando Questa levetta E ha la parte sopra Diciamo Morbida Un po' tipo Spugnetta È Fantastico Copre un sacco Ed è Super morbido Come stesura Domanda successiva Chiaramente Ce ne sono state Tantissime Inerenti All'esperienza Mia di Alice Come docenti Allo IED Infatti Questa persona Mi chiede Data l'esperienza Allo IED Come ti sembra Insegnare Ti piacerebbe Devo dirvi Che si è rivelato Molto più stancante Di quanto pensassi Dopo tre ore Noi siamo Lesse Nel senso che È veramente Tanto stancante Poi mi rendo conto Che in questo periodo Con la pandemia E le mascherine È ancora peggio Perché avere questa cosa A cui devi Questa maschera Davanti Con cui devi parlare È stancante Perché io Ho la percezione Che con questa cosa Non mi sentano bene In più Io per esempio Ero una Che quando era lontana Dal professore Comunque guardava Il labiale Se non sentivo bene Vedevo meglio Rispetto a quanto sentivo Invece così Chiaramente Il fatto del guardare È assolutamente Non possibile Leggere il labiale Intendo Quindi da una parte Uno si sgola Dall'altra sente Caldo e fiaffatica Cioè io a fine lezione Ho il fiatone Perché ovviamente Parlare con questa cosa Avanti è veramente Tanto scomodo Poi tre ore consecutive È pesante Considerando che Comunque è la nostra Prima esperienza E poi fa malissimo La schiena Cioè a fine lezione Io arranco sul tavolo E mi appoggio Sulla scrivania Perché mi ricordo sempre Che magari Professoresse o professori Si appoggiavano Con insomma Al fondo schiera Sul banco Sulla cattedra E pensavo sempre Ma che fa In realtà mi sono resa conto Perché lo fanno Perché sei veramente Esausto dopo Due tre ore Di stare in piedi E muoversi Magari soltanto In un piccolo range Di spazio È veramente Faticosissimo E in generale Il tempo vola Nel senso che Noi iniziamo E un attimo dopo È quasi ora Di di finire Fortunatamente Gli diamo mezz'ora Di pausa Perché poi Immaginate Voi sapete Quanto sono logorroica Io Sapete ormai Quanto è logorroica Anche Alice Immaginateci insieme Immaginateci A parlare dell'argomento Che più ci emoziona In un'esperienza Che non vedevamo L'ora di poter fare Quindi insomma Diciamo che il tutto È molto potente Quindi sì Insomma Hanno anche una pausa E poi noi ci mettiamo Molta enfasi Nel senso che Declamiamo come fosse Non lo so Un'annunciazione Per tre ore Quindi insomma Uno finisce Che è esausto Però mi sta piacendo Tantissimo Veramente è un'esperienza Da cui trarrò Sicuramente un sacco Un sacco Di esperienze Di insegnamenti Capisco che cosa Cioè sto capendo Che cosa significa Insegnare Mi piace un sacco Questa persona Mi abbia chiesto Anche se è una cosa Che vorrei fare Nel senso Magari Fissa Non solo quella Perché ecco Solo un insegnante No Se è una cosa Che vorrei continuare A fare Vi devo dire la verità Per adesso Non mi dispiace Vi saprò poi dire Con come dire Convenzione finale Con sicurezza Solo a fine corso Adesso siamo Nella parte ancora Dove tutto è meraviglioso E sono sicura Che anche dopo Sarà tutto meraviglioso Però ecco Adesso è veramente Tutto perfetto Quindi sì Ti dico Per adesso Mi piacerebbe Continuare a farlo Sempre comunque Non più di una volta A settimana Sono sincera Nel senso Più di una no Ma perché Noi così Praticamente Dichiamo una giornata A questa situazione Perché è in un momento Cioè dalle tre e mezza Del pomeriggio Alle sei e mezza Del pomeriggio Che praticamente Ti spetta tutto il giorno Perché la mattina Si puoi lavorare Ma da casa Non è che puoi andare Chissà dove Comunque uno Un po' È su di giri Quindi Ecco È una cosa Che mi piacerebbe fare Ma mi piacerebbe fare In queste condizioni Quindi una volta a settimana Più di una Per me è impensabile Domanda da un milione di dollari Che moltissimi Mi avete posto Ovvero Non ne hai più parlato Ma come procede L'effetto del rino filler Gusta questa domanda Perché Io ho fatto una testa Così all'epoca Quando l'ho fatto Ovvero a Aprile scorso E poi non ne ho più parlato Quindi giustissima la domanda E giustissimo Che io risponda Secondo me Come procede Sono passati Poco più di sei mesi E devo dirvi Che io non lo so Come procede Nel senso Che molto spesso Leggo Vabbè persone Che ci tengono Chiaramente a Tentare Insomma Di ferirmi Poi non riescono Nell'intento Ma comunque ci provano Invece ho insomma Spesso commenti di persone Che mi dicono Hai buttato soldi Non si vede assolutamente nulla Il punto è che Non è propriamente così Tanto che Non so se ci avete fatto caso Questo lo dico Insomma a titolo informativo Ma ultimamente Io non sto nemmeno più Utilizzando filtri su Instagram Questo ovviamente Che significa Che io mi sento Molto più a mio agio Mi sto truccando pochissimo Cioè penso Non sia mai successo Nella storia Degli ultimi anni Che io mi facessi vedere Su Instagram Senza praticamente trucco Se non un po' di mascara E correttore qua e là E senza filtri Quindi sicuramente Qualcosa è cambiato E io mi vedo cambiata Perché se no Avrei avuto la stessa sicurezza Anche prima E io non ho fatto altro Al viso O altro Sì avevo un po' Embiondito i capelli Però insomma Niente di che Quindi sicuramente È un po' diverso Da prima Poi sicuramente Non c'è stato il cambiamento Che tutti noi Voi Io stessa In primis Perché non crediate Che Che uno Non sappia Come stanno le cose Può fare magari finta Di ignorarle con voi Ma Uno dentro Sa sempre la verità Insomma Al di là di quello che dice Sicuramente Insomma Mi aspettavo un risultato Un po' diverso Che è anche il motivo Per cui Nonostante inizialmente Vi avessi detto Che vi avrei detto Il nome della persona Da cui l'ho fatto E vi avrei insomma Magari dato più informazioni Non l'ho fatto Non l'ho fatto Perché non sono Sicura Di Volerlo rifare Lì E questo è il motivo Per cui non ve ne ho più parlato Perché non sapevo bene Che cosa dire Nel senso che io ad oggi Sono molto Indecisa Sul dirvi Se è una cosa Che rifarei O no E se Allora sicuramente Non mi sono pentita Se la rifarei però O no Non lo so O meglio Io non so Se ho ancora Cioè se l'effetto Del rino filler Svanirà più di così Perché sicuramente Da allora un pochino È svanito Cioè io me ne accorgo Perché ovviamente È una cosa molto impercettibile Quindi chi di voi Non Cioè io lo vedo Cioè io mi guardo ogni mattina Più di una volta al giorno E quindi so come era il mio naso So come è stato il mio naso Dopo il filler So come è il mio naso adesso E vi dico che A me ora come ora Non dispiace Non è sicuramente il risultato Che io mi aspettavo Che speravo Però non mi dispiace Cioè sicuramente è meglio Di come era prima È una cosa impercettibile Sì Però Non so in realtà Quanto impercettibile Nel senso che comunque Vi ripeto Già un pochino Ho svanito l'effetto Perché ovviamente Sono passati sei mesi In teoria dura un anno Quindi ci sta Non so quanto ancora Andrà a svanire Diciamo che se rimanesse così Non so se lo rifarei Perché comunque Sono soddisfatta Se dovesse diminuire Forse prenderai in considerazione L'idea di rifarlo Però sono sincera Non so Ma penso proprio di no Che non lo rifarei Per una serie di motivazioni In cui non mi vado ad entrare Perché Meglio di no Insomma Aspettate che ormai Sto facendo questa cosa In realtà Non lo dovevo spruzzare qua Ma sul pennellino Ma mi sono distratta Con voi Col vostra Ecco Distrutto tutto Mi sono distratta Un secondo Non dovevo spruzzarlo qua Ma là Vabbè Comunque Questo per dirvi Che Nel complesso Comunque il mio naso È diverso Però è cambiato dopo Non so spiegarvi Un discorso molto Molto difficile Perché Anche io ce l'ho Poco chiaro in testa Quindi da esprimere Poi a voi È ancora più difficile Nel senso che In un primo momento Il mio naso Non ero soddisfatta Appena fatto Intendo Cioè non è che Non fossi soddisfatta Sicuramente speravo In meglio E vabbè Il problema È che da allora Il mio naso È cambiato tantissimo Cioè io vi dico Che sono iniziata A essere soddisfatta Del risultato Di questo filler Con tutti i se E i ma Della situazione Verso luglio-agosto Adesso Cioè anche Alice Nianto Mi guarda e mi fa Ma ti si sta Rimpicciolando il naso E effettivamente Anche io ho questa sensazione Poi ovviamente Non è possibile Sicuramente si starà Semplicemente spostando Il filler Però È diverso Cioè è diverso Da prima sicuramente Diverso da quando L'ho fatto sicuramente E ripeto Non so se si sta Se stando E rimarrà così E in tal caso Sarei abbastanza soddisfatta Non so se Diminuire Se quanto cambierà Quindi sono in una fase Di boh Sono in una fase Di boh E non vi ho più aggiornato Semplicemente perché Non so che dirvi Nel senso che Ci sono state fasi In cui pensavo una cosa L'attimo dopo Ne pensavo un'altra Quindi è stato Tanto altalenante Come situazione Che non Non riesco a dirvi Quanto sono soddisfatta O quanto no Perché cambio Chiudo in continuazione Però sono contenta Di aver fatto questa cosa Al di là di tutto Perché come vi ho raccontato Anche in quel video Era in una fase limbo E il limbo È orribile Come situazione Cioè io non lo auguro A nessuno È la cosa peggiore Che vi possa capitare Perché voler fare una cosa Ma essere sempre lì Per farla Poi sei indeciso Poi cambi idea Eccetera È orribile Proprio come sensazione Quindi insomma Sono contenta in ogni caso Di aver fatto Un passo Verso qualcosa Verso un cambiamento Ultima domanda Perché credo Non riuscire a rispondere Ad altre Perché voi direte Marti Ma è così semplice Sì Ora vi andrò a rispondere Questa persona mi chiede Come è cambiato Il tuo rapporto Col trucco Il trucco Mi ha sempre accompagnato In delle fasi Della mia vita E si è rivelato Tanto importante Quanto Lo erano gli altri elementi Quando ero al liceo E all'inizio Del mio percorso A giurisprudenza Il trucco per me Era fondamentale Perché era la mia Unica valvola di sfogo E l'unica cosa In cui ricevevo Soddisfazione Col tempo però Mi sono resa conto Che a darmi soddisfazione Non era tanto Il trucco In sé Ma Il fatto di condividerlo Su Youtube Quindi di fatto Youtube Non In realtà L'argomento Che trattavo Poi in realtà L'argomento Mi piaceva tantissimo E mi piace tuttora Però in realtà La vera passione Non era il trucco Come io invece In un primo momento Pensavo Tanto che per un secondo Come vi raccontavo Tante volte Ho valutato l'idea Di fare un'accademia Magari no Di make up A Roma Ce ne sono tante Buone Da quel che so Insomma Da amiche Eccetera Però a un certo punto Mi sono resa conto Che la mia vera Passione E vocazione Non era tanto Appunto Il fatto di Truccarmi con voi Ma di parlarvi Poi che parlassi Di libri Che parlassi Di make up Di comunicazione Come adesso Di casa O di Non lo so Di animali Cioè qualunque cosa Era proprio Il fatto di comunicare In sé E quindi Questo Mi ha fatto automaticamente Ha fatto automaticamente Diventare questo canale Praticamente Il Non so come dirmi Il mio compagno di vita Per cui Pian piano che sono cambiate Le mie ispirazioni Le mie idee Io Perché sono cambiata Ovviamente Quando me lo dite Io vi dico Certo che sono cambiata E meno male Perché Insomma Rimanere la stessa persona Che ero a 18 anni Sarebbe stato un po' inquietante Onestamente Quindi sono stracontenta E E appunto Questo canale Pian piano è diventato Diciamo tipo Non so come dirvi Il cassetto Delle mie passioni Dei miei cambiamenti Della mia evoluzione Della mia crescita E sono stracontenta E felice Di questo Ad oggi Vi dico che Poi il trucco è stato Per un periodo Anche ciò che mi permetteva Di nascondermi Perché ovviamente Insomma Io penso che uno Per divertimento Trucchi gli occhi E le labbra La base È sicuramente Anche divertimento Ma in tanti casi Può essere anche Un modo per Nascondere Appunto Imperfezioni Che come potete vedere Io ho in abbondanza E E per molto tempo Mi mettevano a disagio Adesso Devo dirvi che Appunto Mi sto truccando Sempre 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 Meno Un po' perché onestamente Lavorando tanto da casa Il pensiero di perdere La mattina Mezz'ora Farsi la base Per stare dentro casa Anche no Cioè Non vedo proprio Il senso Per me Ovviamente Per me e Martina Oggi Devo dirvi che Ho il rapporto più sano Che io abbia mai avuto In tutta la mia vita Poi ripeto Io parlo sempre per me Non dico Che chi si trucca Tutti i giorni ovviamente Non ho un rapporto sano Col makeup Assolutamente Dico semplicemente Che per me Non è mai stato Oddio Non so nemmeno dirvi Che non è vero Che non sia mai stato sano Però adesso Mi sento proprio Di aver raggiunto Lo stato ideale Cioè che mi trucco Se mi va Se non mi va Non mi trucco Oppure mi trucco Il giusto Per sentirmi a mio agio Che in questo caso Ormai è mascara Perché comunque Insomma Penso che il mascara Sia un po' per tutti Il top Ma semplicemente Perché ti apre proprio lo sguardo Non è questione di sicurezza Non è insicurezza È proprio una cosa che A mio avviso Oggettivamente Proprio rende Già lo sguardo più aperto E quindi automaticamente Più carini Più carine E il correttore Quella dove ho qualche brufoletto Ovviamente Quelli sempre Mi metteranno a disagio Perché insomma L'acne non è una cosa Che uno deve accettare Cioè se può Levarsela di torno Visto che ha tutti gli effetti Una malattia Lo fa Però ecco Sono molto libera Cioè non mi sento più La cosa del Oddio mi devo alzare prima Perché mi devo truccare Mi devo fare tutta la base Se no No Tanto che appunto Vi ripeto da aprile Che non mi metto il fondo Tinta Faccio quello che mi va Quando mi va Quando non mi va Non lo faccio Molto semplicemente Sicuramente sono complici Tante cose È l'unica che ci stiamo A prendere in giro E anche l'amore In questo caso aiuta Perché devi tolto a pensare Ad altro Diciamocela anche tutta Perché finché uno Non ha troppo da pensare Si concentra Ovviamente anche sulle stupidaggine Invece quando poi Hai tante cose da fare Il tempo per chiederti Qua se sei più bella Con o senza fondotinta Non c'è In questo momento Veramente sono talmente Tanto piena di tante cose Che Proprio quella cosa Mi manca Onestamente E mi volevo mettere Un rossetto Perché il rossetto Penso siano due anni Che non me lo metto Per colpa Di questa maledetta situazione Delle mascherine Che ovviamente Cioè mettersi il rossetto Con le mascherine Per me è proprio un no Ci sto proprio scomoda E In questo momento Sono veramente soddisfatta Perché credo Di aver raggiunto La pace ideale Cioè Mi piaccio sempre Tra l'altro Non mi vedo più Me stessa Truccata così Cioè nel senso Una volta Mi ricordo Che la sensazione Sia mentre giravo questi video Sia quando non li registravo Era che E quando arrivavo A questo step Ero Io Stavo bene Invece adesso No Cioè mi guardo E faccio Sono carina così Ma è la stessa cosa Che ho pensato Ieri mattina Quando mi sono messa Solo la maschera E un po' di correttore E questo è il motivo Per cui non mi vedete più Parlarne tanto Perché Perché mi fa piacere Raccontarvi di un po' di tutto Quindi In questo momento Non è più una priorità Magari lo ritornerà Perché poi Tutto secondo me Fa un po' Montagna russa No Quindi ci sono momenti In cui Per dirvi Non mi va per niente In momenti in cui La mattina mi sveglio E dico Oggi mi faccio Un trucco pazzesco Quindi è questo Decidero Per mattina Come va Allora Avete idea Da quant'è Che non mi truccavo Così Mi piace Tutta questa combo Quanto mi era mancata Per dirvi Ovviamente Che questo Get ready E E un po' Anche a rispondere A delle domandine Chiaramente Io spero che vi sia piaciuto Vi mando un bacio Un abbraccio E noi ci vediamo Alla prossima Ciao